Adorabili amici, oggi I Nani Mazzo trivale Nani Mazzo richiestissimo dalla community Dagli spoiler della signorina Magdalena Che è un lord molto interessante Com'è molto interessante anche questa lista Ci ho messo un sacco a trovare la quadra Sono abbastanza soddisfatto del deck che vi porto oggi La premessa è che è una lista spicy È un mazzo spicy, non competitive Mi ha stupito piacevolmente in best of one Perché mena come un fabbro sto deck Questi Nani sono proprio dei fabbrinati Ma partiamo da Magdalena 2-1 a costo 2 Gli altri Nani che controlli prendono più 1 o più 0 Ogni qualvolta un Nano che controlli viene tappato Crea una pedina tesoro Sacrifica 5 tesori Passa in rassegna il tuo grimorio per una carta artefatto o drago E metti quella carta sul campo di battaglia Poi rimescola il tuo grimorio A prescindere dall'archetipo tribale Nani Magda è una carta che mi piace un casino In questo deck ha sicuramente la componente di potenziare tutti i nostri Nani Ma anche la componente di rampare Motivo per cui giochiamo il 2x di drago del ponte d'oro Perché o lo rampiamo e quindi lo giochiamo prima del turno 5 Oppure lo tutoriamo Anche se la miglior carta da tutorare con Magda è decisamente Bracelama Perché se noi abbiamo 5 tesori e attacchiamo con i nostri Nani Sacrifichiamo i tesori per Bracelama Prima dei bloccanti quando volete E mettete in gioco Bracelama e fate un botto di danni Carta che tra l'altro sinergizza ovviamente con i 7 Nani Mazzo che non poteva non giocare ai 7 Nani Ovviamente giocare i 7 Nani in 7x Crea questa curva Però, rivadisco, in Best of 1 sono piacevolmente sorpreso Un altro ottimo nano che abbiamo in standard È decisamente il Cavaliera di Rocciamuraglia È un deck super aggressivo E questo 3-1-2 che si porta presso un'avventura Sta benissimo Nonostante la sovrabbondanza di carte a costo 2 Abbiamo un altro Lord, in realtà Il signor Torbran Anche lui nano Quindi in tema con la tribe Che potenzia tutti i danni inflitti dalle fonti rosse Tendenzialmente il nostro deck è un mono rosso In realtà con uno splash per il bianco Per carte che vediamo dopo Quindi Torbran sposa benissimo la strategia aggressiva E rimane in tema con i Nani Splashiamo il bianco Per resa dei conti degli Skald Carta fortissima Carta che non può mancare in un deck standard Boros Assolutamente consigliata E la giochiamo in 3x Giochiamo il bianco per un altro nano di standard Super performante Che in questo deck in realtà è molto utile Ed è il campione Forgiarune È un 2-3 a costo 3 Guerriero nano Quando entra nel campo di battaglia Puoi passare in rassegna il tuo grimorio E o il tuo cimitero per una carta runa Rivelarla e aggiungerla alla tua mano Se passi in rassegna il tuo grimorio in questo modo Lo rimescoli Puoi pagare un mana in colore Invece di pagare il costo di mana Per le magie rune che lanci In questo deck giochiamo due tipologie di runa Quella bianca e quella rossa Quella rossa dà più 1, più 0 e rapidità E tutte le rune anzi Quando entrano nel campo di battaglia ci fan pescare Mentre la runa bianca dà lifelink alla creatura incantata Sono entrambe interessanti nel deck Runa del sostentamento dando lifelink aiuta nei matchup contro altri aggro Mentre la runa della velocità ci permette di fare questi turni esplosivi Dove diamo rapidità a uno dei nostri nani ingigantiti E meniamo come i matti Ma tendenzialmente la possibilità di giocarle a uno Cambia e svolta tutto Il campione è un modo che abbiamo per generare value Ed è tantissima roba il fatto che sia un nano Quindi super in tema con il deck Finiamo poi con il reparto rimozioni Che in realtà queste due rimozioni vanno un po' a complicarci la mana base Giochiamo il 3 per di morso gelido E il 3 per di schianto di frantumateschio Perché ci complica la mana base? Perché non può essere un mazzo nani Se non giochi la miniera dei nani Che giochiamo in 2 per Il limite alla mana base che ci dà la miniera dei nani È che non possiamo permetterci di giocare carte come il castello O come il rifugio E quindi dobbiamo per forza giocare il 3 per di prateria alpina Funziona da montagna E in più è una terra snow per il morso gelido Ricordiamoci che il bianco in realtà è uno splash Quindi io mi son trovato bene con questa suddivisione Però sicuramente la miniera dei nani ci aiuta Perché ci mette in gioco un ulteriore nano Che viene potenziato da Magda eccetera Quindi in realtà è un sacrificio che ci può stare È una lista sulla quale ho lavorato tanto Questo è il mio mix Ma non vi do la garanzia che sia la versione migliore del deck nani Però guardatevi Gameplay perché fa scassare Quando gira questo deck fa scassare In descrizione trovate il link per esportare questa decklist su Magic Arena E trovate anche il link per la collezione Magic di Zavi Se utilizzate il codice ZIOGARBE Al momento dell'acquisto avrete il 20% di sconto Su tutte le collezioni Zavi Io ovviamente vi consiglio la collezione Magic Che sono magliette e non solo super fighe È anche un modo per supportare il canale L'altro modo per supportarmi ovviamente È lasciare un like e un commento al video E se non sei ancora iscritto Iscriviti per vedere altre decklist spicy Come il Tribale Nani Adesso Gameplay Inizia l'avversario con Iorion Non vorrei che questa fosse troppo lenta Teniamo questa meglio Abbastanza meglio Ok Cos'è che fa tutto sto casino? Trioma o la mia carta? Sette Nani Magda E iniziamo a fare i tesori Forse Speriamo di vedere terra in realtà Va bene Fortellami tutto baby Terra tappata E va bene Va bene Però intanto iniziamo Così il prossimo turno faccio sette Nani Se faccio Runa e poi sette Nani Pesca Iorion Bene Runa della velocità in realtà Sa che la facciamo Non ci dico di no Traschiamo anche terra Perfetto Posso essere più felice di così? Non credo E io qua vado anche a potenziare L'altro nano E son danni Signori Son danni Basta così Vediamo lui ora cosa fa Niente Surrenda Che cattivi sti Nani Cattivissimi Allora abbiamo la pescata Con la runa Doppia runa Campione Teniamo in realtà Giusto perché cicliamo La runa della velocità E facciamo turno Due sette Nani Facciamo sette Nani O il Cavaliere Facciamo sette Nani Il prossimo turno Facciamo runa E speriamo di veder terra Se no ho un problema Cateria Cateria Oh Very nice Very spicy Voglio fare l'hand drop Perfetto Non attaccherei Perché voglio attaccare con Magda Che almeno mi fa rampare Buona Mazzocleric Cateria Come suona bene Cateria Uh baby a double Va bene Vediamo un'altra terra Questa è interessantissima Farei Magda Attacco Campione O Campione Runa Pesco O Torbran Voglio rampare No In realtà no E se faccio Magda Sicuro va a bloccare Se invece faccio il campione Direi Grimorio Velocità Diamo la runa Al campione Che diventa Bello Aggressive E attacchiamo Se fa al trade Va benissimo No In cassa Meglio Meglio Prossimo turno Facciamo Magdalona Va bene No Vorrei far Magda Per iniziare A tutorare Ho il morso gelido Per togliere Una sacerdotessa Perfetto E poi Prossimo turno Riempiamo La board Di Nani Un inizio Elevarla Ok E qua Partiamo Potenziamo Il nostro Campione Facciamo Un altro Sette Nani Poi facciamo La runa Sul campione E guadagniamo Un po' di vita Se era in mozione Abbiamo il doppio Nano E peschiamo Comunque Ora potenziamo Però Il nano 5 di vita E quel che ci serve Braccio e lama Non dobbiamo Neanche più Tutorare Vai campione Forgi a rune Andiamo se ti mangi Rimozione Che cosa gioca L'opponent Non lo so Ma va bene così Torniamo a 17 Prossimo turno Faremo Braccio e lama Abbiamo anche Potenziamento Di Della saga Di cavaliere Un sacco di roba Figa Va bene Ok GG Avrei avuto Barcellona GG Giochiamo Giochiamo a noi Per primi Con doppio nano Il campione Il drago Ma io questa la tengo Sulla play Doppio nano In realtà Non è male L'avversario Muldiga Un botto Eh no Ah se Tibalt Triggery Mannaggia Mannaggia Tibalt Triggery Tibalt Triggery Noi proseguiamo Per la nostra strada Vediamo cosa fa Ok Ok Farei comunque così Dopo sono Tanti danni Se facciamo Torbram Possiamo anche Fare il campione Rip L'anti magic L'anti magic Madonna Quanto mi sta Non si dice Questo deck Quanto mi sta Questo deck Prendi pure Antimalocchio Che io qua ti meno Tanto si prende I danni Quindi Potrei anche Punirlo In qualche Stranbo Modo Punito Te lo meriti Nani Contro ninja Ma Questo è un po' Rischi Ma la teniamo Abbiamo Turno Turno 2 Nani Turno 3 Magda Volendo Per iniziare A rampare Puoi fare Torbram Puoi fare 10.000 robe Gioca Elfi Mamma mia Che scontro Fra titani Miniera In realtà Se vediamo Un'altra Montagna No Rip Niente Montagna Facciamo Magda E non Attacchiamo Tanto lui Non Attaccherà Cioè lui Non bloccherà Iniziamo A rampare E invece Blocca Cambia poco Cambia poco Perché Prossimo turno Abbiamo il mana Per Barcellona Che attacchiamo Con Magda Protettore In main phase E ovviamente Non blocchiamo Abbiamo decisamente Il mana Per Barcellona Perfetto Va bene Lui è fermo A terra Mazzo Elfi In standard Ci abbiamo provato Ma paradossalmente Mi piace più Il mazzo Nani Un altro Manipolatore Elfi Ninja Elfi Ninja Cosa sta per Succedere Con due Mana Verdi Non lo so Thor Bran I danni Semmai Dovesse Uccidermi Questa Magda No Appassire Così No Questo Non me l'aspettavo In main Buddy Sei proprio Un ninja Mi è Ningiato La vittoria Sette nani Facciamo così Faccio Campione Prendo La runa Rapida Rossa Gioco Gioco I sette Nani Li equipaggio Pesco Attacco Con tutto GG Contro Elfi ninja Giochiamo Per primi La tengo La tengo Ho rimozione Se fa Troppo Uno No Ho il Bianco Che gioco Faccio Sette Nani Speriamo di Vedere Terre Però C'è da dire Che con Magda Comunque rampiamo Ma questo Lo voglio togliere Subito Eh Perfetto Perfetto Via subito Così Magda Rampiamo Se vediamo Terra Facciamo Drago Pre-combat Mi piacerebbe Altrimenti Facciamo anche Il campione Prendiamo Runa Lui mi fa Un altro Cobra Ok Forse Io devo Togliere Un mana O posso Non toglierglielo Quanto E gridi Non toglierglielo Però poi Lui mi trada Sui miei pezzi No Andiamo Andiamo A toglierlo Prendo Sostentamento Abbiamo Due Provo a pescare In realtà Paga Se vediamo Una montagna Un cazzo Proprio E non faccio La seconda Perché Se non vedo Terra Faccio Drago Rifugio E va bene Ti ho ucciso Ti ho ucciso Così Sono 5 9 12 Yes Un sacco Di tesori E' cattivissimo Sto deck Che paura GG Che paura Devo